Cambiamo argomento, dal prossimo 4 marzo riapre la tratta ferroviaria Ruvo Corato anche se inizialmente il regime dispò la protetta 50 km orari. Ad annunciarlo l'assessore ai trasporti della regione Puglia Giovanni Giannini anche il cantiere per il raddoppio della Corato Andria per un totale di 33 milioni di euro procede. Siamo quasi al 40% dell'avanzamento contabile e con una previsione di completamento entro la fine dell'anno corrente, assicurato Giannini. Alessandra Torsili. Dopo due anni e cinque mesi, dal prossimo 4 marzo riapre la tratta ferroviaria Ruvo Corato. Lo ha annunciato l'assessore ai trasporti della regione Puglia Giovanni Giannini. Il servizio inizialmente sarà ripristinato in regime di spola, protetto dal limite di velocità di 50 km orari e sul sito di Ferro Tramviaria è possibile visionare il nuovo orario di viaggio. Cosa cambia per i viaggiatori in arrivo da Bari Centrale? Arrivati in stazione a Ruvo di Puglia senza scendere dal treno, i viaggiatori proseguiranno alla volta della stazione di Corato a velocità ridotta. Arrivati in stazione a Corato, i viaggiatori diretti ad Andria e Barletta dovranno scendere dal treno e salire sull'autobus sostitutivo per raggiungere le altre destinazioni. A loro volta, arrivati ad Andria, i viaggiatori diretti a Barletta dovranno scendere dall'autobus e salire sul treno. Questo è un ulteriore tassello che ristabilisce in parte la continuità della circolazione consentendo agli utenti di viaggiare direttamente senza interruzioni da Bari a Corato e viceversa. Dopo aver già completato le opere civili sul secondo binario, sempre sulla Ruvo Corato, annuncia Giannini, sono in fase di contrattualizzazione anche gli affidamenti per gli impianti di segnalamento e sicurezza che verranno completati nei primi mesi del 2020. Dunque, secondo l'assessore Giannini, bisognerà aspettare ancora un anno per riprendere l'originaria velocità di percorrenza sulla Ruvo Corato, superando così gli attuali 50 km orari imposti dall'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie. Ma intanto, a che punto sono i lavori sulla restante tratta? Anche il cantiere per il raddoppio della Corato Andria, per un totale di 33 milioni di euro, procede, ha aggiunto l'assessore Giannini, siamo quasi al 40% dell'avanzamento contabile con una previsione di completamento entro la fine dell'anno corrente. Va in ogni caso segnalato che il passaggio sotto il controllo dell'Agenzia Nazionale per la Sicurezza Ferroviaria ha visto avviare un obbligatorio iter di riesame, rivalutazione e validazione di tutti i progetti iniziali, compresi quelli esaminati dall'Ustif, con un conseguente allungamento dei tempi di esecuzione degli stessi già elaborati. Sono prossimi all'apertura anche i cantieri per il secondo fronte della stazione di Barletta, per un totale di 4 milioni di euro, e per l'interramento della linea nell'abitato di Andria, per un totale di 91 milioni di euro. Espletata la fase della prequalifica delle imprese, le procedure di gara sono in via di definizione e salvo che non intervengano imprevisti, la conclusione della realizzazione dell'opera avverrà entro il 2022.